ciao ragazzi della botteguccia dei sigili della botteguccia crack apart siamo qua con io il teo crack apart con dagon l'ora il diseredato abbiamo deciso di preparare qualcosa di nuovo per voi e questa è la forma casalinga artigianale della promo cioè un'analisi di personaggi ritratti d'anime è vero o no che dici dagon esatto esatto in quanto noi ci occupiamo per lavoro e per piacere di arti visiva in qualche modo abbiamo pensato di riformulare la visione popolare di certe figure sia benevole che malevole ecco per distruggere anche quel cosiddetto assioma che esiste bene male quel dualismo non cerchiamo di trarre il sunto di alcune vite che hanno influenzato in particolar modo l'opinione pubblica ecco quindi ci sarà un'ampia gamma ecco di persone che saranno sottoposte alla nostra attenzione un po di di tiana sai osserviamo e scopriamo che la patata non è una verdura possiamo aspettatevi di ogni insomma adesso ovviamente la facciamo breve perché è una promo ma aspettatevi veramente personaggi del jet set dei media in generale sportivi criminali e santi e santi e santi e santi del passato del presente e anche per chi non lo sospetta è vero dagon del futuro che sta arrivando vi aspettiamo non mancate chi manca non sarà mai un personaggio del futuro cioè esatto esatto fa si si ammala e fa morire gli altri vi aspettiamo ragazzi vi aspettiamo e vedrete e vedrete il giorno ve lo comunicheremo un bacio e ci vediamo prestissimo con ritratti d'anime ciao ciao ciao